Salve da Agro Palati, oggi fegato sulla griglia, viene prima aggiustato di sale, di pepe, quello che volete insomma, poi si mettono i veli che vengono dati insieme al fegato, non sempre sono disponibili però chiedeteli sempre, è importante, poi basta grigliare un paio di minuti, vedete, si può gustare il fegato di maiale, una delizia. Prossimamente ci sarà una ricetta anche molto antica, sto preparando tutto quello che mi occorre, oggi non ho avuto la possibilità di poter recuperare l'alimento principale, ma dire il sangue di maiale, fa un po' senso dirlo, ma la verità, ma il sanguinaggio è una tradizione molto molto antica, che ovviamente è vietata nella vendita, perché da 91 penso che sia vietato venderlo, però ancora a casa qualcuno lo prepara, ne fai da te. In alcuni posti addirittura stanno omettendo di mettere il sangue, lo chiamano pure sanguinaggio, è un cioccolato, ma non si capisce perché lo chiamano sanguinaggio. Io cerco di preparare la nostra tradizione, che mi ricorda anche di mia mamma, e ovviamente diciamo che tra giovedì e venerdì, se riuscirò, pubblicherò il video della preparazione del sanguinaggio. Non ci vuole tanto ad arrostirlo, perché all'interno deve risultare ancora abbastanza morbido, quasi con un leggero sangue, ecco, troppo secco non va bene. Io vado avanti, se lo brucio, ho le cellule in mano, a voi tutti una buona giornata da Michele Experto.